Buonasera Marche, dunque ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Parleremo di tanti argomenti, trasporto pubblico locale, aeroporto, ma anche la gestione della raccolta differenziata, quindi parleremo di servizi che sono importanti per la cittadinanza ma che assumono una rilevanza anche occupazionale, quindi parleremo anche della situazione dei lavoratori. Lo facciamo con Roberto Ascani della CISL che salutiamo, grazie di essere qua con noi, e con Emanuele Bonvini che è un lavoratore di Ancona Ambiente, una RSA proprio all'interno dell'azienda e quindi capiremo da lui un po' qual è la situazione. Andiamo subito a parlare di un primo servizio, perché sostanzialmente oggi in questo appuntamento parliamo di servizi che i nostri teleascoltatori conoscono bene. Intanto partiamo con il trasporto pubblico locale. Le risorse sono in calo, dunque Ascani cosa potrebbe succedere da qui a breve? Diciamo che abbiamo avuto un incontro recentemente con l'assessore regionale, c'è moltissima preoccupazione per quanto riguarda il quantitativo delle risorse a livello globale, sicuramente sembra per accertato che ci sarà un ulteriore taglio di 3 milioni e mezzo di risorse a livello regionale e questo fa sì che il settore viva in questo momento di grandissima difficoltà. Abbiamo cercato in tutte le maniere di avere rassicurazioni sul mantenimento dei servizi da parte dell'assessorato e di poter fare dei risparmi utilizzando delle maniere diverse da quelle finora utilizzate che sono quelle del taglio dei servizi. Le rassicurazioni ancora tardono a venire, vediamo che cosa succede e stiamo in attesa di un ulteriore incontro dell'assessore regionale. Anzi, devo dire che proprio in questi giorni abbiamo fatto un sollecito rispetto all'assessorato per avere certezza delle risorse anche per quest'anno e per il prossimo anno. Ecco, un problema che si ripete ogni anno e ovviamente con la BEF oltretutto che subiscono le marche in qualche modo virtuose e per questo ricevono meno risorse. Assolutamente sì, si ripete ormai da qualche anno, è stato compensato con l'aumento delle tariffe, ricordiamoci che è avvenuto qualche mese fa. Noi siamo contrari a questo tipo di atteggiamento perché, come dicevi giustamente te, siamo una regione virtuosa e i costi della gestione del servizio sono i più bassi d'Italia. Stiamo aspettando con una certa frenesia che introducono finalmente questi famosi costi standard perché ci porterebbero molte risorse aggiuntive rispetto a quelle attuali. Perciò non capiamo quale sia la manovra anche a livello nazionale che penalizza fortemente coloro i quali offrono oggi a un costo molto vantaggioso e paradossalmente invece dovranno ridurre ulteriormente il servizio perché non sono in grado di reperire in qualche maniera delle risorse tra il bilancio regionale e dal bilancio nazionale. Qualche limatura poi sul biglietto? Le limature sul costo del biglietto credo che non ce ne saranno. Noi abbiamo chiesto fortemente alla regione di intervenire per quanto riguarda l'evasione perché i dati anche dell'evasione nel nostro territorio sono abbastanza elevati. Credo che la regione ci verrà incontro in qualche maniera ma questa sicuramente non è una iniziativa che potrà portare grandissime risorse. Diciamo che è moralmente e eticamente valida ma non è che porterà tantissime risorse nel paniere complessivo del trasporto pubblico locale. Servono delle azioni più forti sul governo nazionale e della politica. In questo caso siamo presenti in tutte le commissioni nazionali per quanto riguarda gli studi di settore e quant'altro attraverso l'assessore e l'assessorato. Come membri dell'assessorato serve un'iniziativa incisiva sulla politica romana perché si prenda atto che questo territorio già svolge un servizio in maniera economica e perciò è vantaggiosa per i cittadini e perciò deve essere gratificato dall'introduzione dei costi standard. Paradossalmente li chiediamo noi questa volta. Quali le ripercussioni anche sui lavoratori del settore? Ma se verranno avanti ovviamente con meno risorse è presumibile che anche se noi, l'ho detto in premessa, siamo fortemente contrari, è presumibile che ci siano poi dei tagli ai servizi e dei tagli al personale. Anche qui andiamo a incidere nuovamente sull'occupazione. Abbiamo negli anni passati bloccato il turnover del personale e fatto delle azioni di efficientamento delle aziende. Credo che oggi andremo a incidere fortemente sulla carne viva, nel senso che metteremo in discussione l'occupazione globale del settore. Oltre che ridurremo ulteriormente i servizi per i cittadini perché anche qui oggi siamo al minimo sindacale perché si svolgono fondamentalmente i servizi legati al trasporto pubblico necessario, quello scolastico e poco più. Insomma, di domenica già si vedono pochi pullman in giro e caleranno ancora di più. Questa è la previsione. Dunque, dalla trasporto sul gomma a quello aereo, la situazione è davvero complicata all'aeroporto di Falconara. Ci sono 105 dipendenti che sono senza stipendio da due mesi. Sono in attesa di risposte da parte della politica, da parte della proprietà. Lo siete anche voi. Avrete un appuntamento, avete un incontro la prossima settimana proprio in Consiglio regionale per parlare di questa situazione perché quella dei lavoratori forse è la spia di una malattia molto più grave. Sappiamo insomma che l'aeroporto ha, se non sbaglio, 40 milioni di debiti e se arriva al quarto anno con il segno meno potrebbe chiudere con il ritiro definitivo della concessione da parte dell'ENAC. A che punto siamo? La situazione è drammatica. La prossima settimana abbiamo chiesto alla Giunta, ma al Consiglio regionale, di riceverci una delegazione di lavoratori. Spero che i vari capogruppi del Consiglio regionale e il membro della Giunta regionale che vorrà partecipare a questa riunione prendano coscienza che la situazione è diventata drammatica. Ormai i stipendi sono in ritardo di due mesi. In cassa, dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato, non ci sono risorse. Ci sono i creditori alla porta, perché i creditori più importanti sono IMS e altri. Sì, io credo che sia urgentissimo la definizione di un piano industriale, di un piano di riorganizzazione di servizi e di attivazione anche di un piano commerciale, perché questo aeroporto, se è vero che, come viene detto a livello nazionale, rappresenta un elemento strategico di rilevanza anche nazionale, deve funzionare in maniera efficiente e efficace, è d'accordo, ma deve funzionare. Perciò devono essere messe a disposizione le risorse che servono per poterlo funzionare. E deve essere trovata anche l'elemento commerciale che lo faccia in qualche maniera decollare. Certo, andiamo verso l'estate. L'estate era il periodo più complesso, perché in questo periodo c'è un minimo di attività, anzi c'è un massimo di attività perché l'aeroporto effettuerà parecchi voli. Sarebbe un peccato che proprio in questo momento si vada in una crisi emergenziale, sia per quanto riguarda il servizio e per quanto riguarda il mantenimento di questi voti. Come siamo arrivati a questa situazione? Siamo arrivati a questa situazione in maniera un po' paradossale, nel senso che si sono succeduti dopo il periodo moriale dell'amministratore delegato moriale insomma una serie di... Anche l'inchiesta in corso peraltro. Sì, ci sono parecchie istituzioni pubbliche di controllo che stanno controllando i conti all'interno e quant'altro. A noi ci interessa relativamente poco la situazione lì, ci interessa che oggi l'aeroporto venga gestito in maniera manageriale e soprattutto se mantengono i livelli occupazionali perché all'aeroporto ci sono centinaia di famiglie che gravitano in quella condizione e perciò diventa un dramma se non ci perseguiscono le retribuzioni per almeno ormai da un paio di mesi non ci perseguiscono più le retribuzioni. Certo, stanno pagando delle scelte forse non... Delle scelte non fatte perché siamo andati dietro al discorso della gara per un anno e mezzo oggi la gara sembra accantonata, si sta buttando giù, ci dicono, un piano di riorganizzazione si stanno sviluppando rotte altre rotte però insomma siamo nella totale oscurità per adesso nel senso che sono buoni propositi e parole, serve di concretizzare tutto questo passando dalle parole ai fatti anche nel giro di poco tempo. Non si esclude lo sciopero se nel giro di poco tempo insomma perlomeno non verranno erogate queste mensilità? Non si esclude lo sciopero perché noi crediamo che sia importante il coinvolgimento dei lavoratori rispetto a un processo anche di riorganizzazione invece questo coinvolgimento diciamo così che a parole viene tanto sventolato però nei fatti poi non c'è e poi soprattutto serve un coinvolgimento forte dell'azionista da maggioranza che è la regione che deve capire che ha una partecipata che è in gravi difficoltà e perciò deve pensare come risolve perché poi sarebbe un danno anche per la regione come ha detto giustamente in premessa. Quest'azienda ha un debito che uscilla perché uscilla tra i 37 e i 40 e rotti milioni di euro comunque ha un debito ben consistente a cui qualcuno dovrà pur rispondere eventualmente ci fosse una condizione mal augurata, condizioni di fallimento. Ecco c'è questo appuntamento fissato per la prossima settimana, cosa vi aspettate dalla regione già in questo primo appuntamento? La regione come azionista, come proprietario di questa struttura deve prendere in mano la situazione, deve coinvolgere i lavoratori in maniera diretta su questo piano, deve stabilire gli obiettivi, di risanamento, gli obiettivi di sviluppo dell'aeroporto, insomma fare quello che ci si aspetta da un'azienda che sta sul mercato e che perciò deve avere una vita non di brevissimo rispiro ma di medio-lungo rispiro, insomma. Siccome non siamo per chiuderlo l'aeroporto, noi siamo per farlo vivere, bisogna mettere in campo tutte le azioni necessarie per farlo vivere e non soltanto sopravvivere, insomma. Rilanciare. Rilanciare. 105 lavoratori, sono troppi? Io dico di no perché la struttura organizzativa attualmente dell'aeroporto necessita di queste risorse, d'altronde la stessa società ha stabilizzato qualche tempo fa una quindicina dei lavoratori a part time e oltretutto questi lavoratori hanno dato del loro perché si sono resi disponibili, hanno una forma di flessibilità anche abbastanza accentuata per poter dare incontro anche a queste attività, poi ci sono delle situazioni per quanto riguarda la sicurezza che impongono comunque la presenza, perciò l'operatività dell'aeroporto è legata al fatto che comunque queste persone poi operino in maniera diretta sull'aeroporto perché stabiliscono i standard di sicurezza stabiliti non da noi ma dall'ENAC e da tutti gli enti che girano intorno all'aviazione civile. Ed ora passiamo ad altro argomento ovvero all'azienda unica per la gestione dei rifiuti, parliamo di molti servizi, è un passaggio che soprattutto i lavoratori attendono per i prossimi mesi, qual è la situazione anche perché li abbiamo visti la scorsa settimana manifestare proprio davanti alla sede di molti servizi per chiedere conferma della creazione di questa azienda unica che per loro di fatto significerebbe sicurezza del proseguio del lavoro. Noi abbiamo fatto un presidio, lo ricordo perché è importante, l'altro giorno perché sereno, tranquillo, senza creare nessun tipo di disagio alla cittadinanza, lo dico perché per i lavoratori rappresenta un fortissimo senso di responsabilità questo, perché stiamo aspettando risposte riguardo a questa azienda pubblica ormai da un anno e mezzo perché noi veniamo da un seminario che abbiamo fatto nel luglio del 2014 dove lanciavamo questa idea alla politica e all'istituzione politica in generale e era stata condivisa da parecchi sindaci del territorio e rispetto a quella... Perfetto, rispetto a questo ci erano stati poi delle azioni insomma anche concrete, delle delibere da parte dell'Ata che aveva assegnato un lavoro di coordinamento, di organizzazione insomma di pianificazione alla molti servizi e poi la cosa si è fermata, abbiamo perso diciamo un anno e i lavoratori si sono resi in conto che dopo un anno abbiamo concretizzato un po' poco rispetto a questo, oltretutto sono immanenti anche alcuni decreti, leggi emessi dal governo che potrebbero cambiare le carte in tavola e allora abbiamo ritenuto opportuno dare una spinta insomma a chi di dovere e a chi ha la facoltà e la possibilità di fare le scelte insomma una spinta pacifica, serena insomma dialogante insomma chiamatela come vi pare però per far sì che chi ha responsabilità in tal senso faccia a oggi le scelte più urgenti che ci sono da fare. C'è un appuntamento credo con l'assemblea straordinaria della molti servizi tra qualche giorno, lì ci sarà un cambio della statuto ma questo ovviamente non basta, servono altre scelte più importanti che devono passare attraverso i consigli comunali perché il progetto che sosteniamo è un progetto ambizioso sì ma anche importante per tutti i cittadini della collettività, si tratta di organizzare il servizio per tutta la provincia con un'azienda pubblica perciò far sì che tariffe ci sia garanzia per quanto riguarda il lavoro e su questo non ci piova insomma, ma che ci sia anche la possibilità di lavorare e intervenire sulla tariffazione dei rifiuti che è una cosa che interessa a tutti i cittadini in modo da renderla più digeribile diciamo così anche per i cittadini cercando di fare in tutte le maniere possibili per abbassarla. Ecco, di fatto la creazione di questa azienda unica porterebbe anche dei risparmi per quanto riguarda le tariffe su rifiuti? Ovviamente sì perché si andrebbe a un modello di raccolta differenziata più efficiente già sperimentato nella provincia di Macerata perché il modello è quello lì fondamentalmente che ha portato dei vantaggi per quanto riguarda già la raccolta differenziata perché ha delle percentuali molto elevate e porta dei vantaggi anche per quanto riguarda la tariffazione perché anche lì hanno fatto un buonissimo lavoro perché hanno efficientato il servizio, l'hanno reso ancora più economico, d'altronde è un impegno, è una previsione che prevede anche la legge e perciò si va. È ovvio che su questo i lavoratori sono presenti e disponibili, noi abbiamo già fatto degli accordi in tal senso che sono propedeutici al passaggio, alla struttura, all'azienda nuova. Devono essere d'accordo i sindaci? Perfetto, i sindaci, abbiamo fatto anche un percorso con tutti i sindaci perché bisogna ricordarlo, abbiamo impegnato due o tre mesi del nostro tempo per fare un passaggio con tutti i sindaci della provincia delle Marche o perlomeno con quelli più importanti, parlo di Falconara, Senigaglia, Iesi, Ancona, Fabriano, ma anche Chiaravalle, Castelfidardo, insomma parecchi sindaci che ci hanno dato un appoggio su questo progetto evidenziando anche delle criticità perché ogni territorio, ogni comune ha la sua peculiarità, è giusto anche riconoscerle però c'è una volontà comune di farlo, oggi si tratta di tradurre questa volontà in qualche delibera o atto conseguente. Siamo arrivati al momento in cui bisogna fare le scelte perché su Ancona abbiamo una proroga di sei mesi che il comune di Ancona molto probabilmente potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno però i tempi oltre questo anno, entro questo anno, devono essere messe almeno le basi per poter fare quello che è l'intendimento comune, insomma, realizzare quello che è l'intendimento comune. Emanuele Bonvini che lavora proprio ad Ancona Ambiente, ecco probabilmente c'è un forte clima di attesa in azienda. Sì, la proroga di cui parlava Scani è arrivata in un tempo molto stretto perché è arrivata il 23 dicembre, quindi i lavoratori hanno vissuto un periodo di incertezza alla fine dell'anno perché il contratto che legava Ancona Ambiente con il comune di Ancona stava scadendo e non avevamo nelle mani questa proroga, quindi abbiamo vissuto questo momento di incertezza, più abbiamo vissuto anche questo stallo di questa nuova multoutility che non partiva, quindi c'è molto nervosismo all'interno dei lavoratori. Adesso la preoccupazione è più che altro la nuova multoutility, i tempi di realizzazione perché con questi sei mesi forse non riusciranno a fare tutte le pratiche per questa aggregazione. Nel frattempo è stato proclamato lo stato d'agitazione per cercare di sensibilizzare su questo tema la parte politica perché è lei che ha responsabilità di tutto questo iter, da parte dei dipendenti c'è stata la massima disponibilità, abbiamo fatto un accordo sindacale per passare un altro tipo di contratto, una parte dei dipendenti quindi ci ha rimesso qualcosa alla fine se si dovesse andare ad attuare questo progetto. Invece la parte politica un attimino non ha fatto tutto l'iter definitivo perché doveva addirittura essere finito entro, c'era un primo piano di attuazione di questa azienda unica provinciale che doveva essere terminato il 31-12-2015 mi ricordo, perché Ancona Ambiente, i servizi su Genus e CIS dovevano fare da apripista, per questo progetto poi si sarebbero inserite nel progetto gli altri comuni scadenza del contratto, quindi siamo in forte ritardo e gli operatori ne risentono perché con questa proroga di sei mesi non si riesce a chiudere il cerchio della multiutility. Su questo volevo aggiungere una cosa, che i lavoratori in questo anno hanno fatto il loro, anzi sono stati chiamati a fare dei sacrifici e l'hanno fatto, tutte le aziende pubbliche della provincia hanno bilanci non solo da quest'anno ma ormai anche dal 2014 che sono positivi e non è un caso, questo per dirlo che è un'azione di efficientamento in tutte le aziende, comprese Ancona Ambiente, parlo di esi servizi, parlo anche di Su Genus, parlo anche di Ancona Ambiente, sono state fatte, di CIS e di Ancona Ambiente, sono state fatte tant'è che i bilanci di tutte le aziende sono inutili e anche inutili consistenti, perciò riorganizzazioni interne sono già state fatte, l'attesa perciò i sacrifici, i lavoratori li stanno facendo, l'attesa è ancora più pressante proprio per questo. cambiando anche forse il modo di lavorare un po', no? Sì, perché il porta a porta ha dato dei risultati positivi in provincia di Ancona, però come diceva sempre Roberto, a Macerata c'è un altro tipo di modalità di raccolta con tre frazioni a porta a porta e due di prossimità che sta dando degli ottimi risultati perché mi sembra che abbia superato il 70% la raccolta differenziata, quindi non è detto che il porta a porta sia qualcosa in cui diciamo non può essere cambiato tecnicamente dando sempre i soliti risultati perché è come ha dimostrato Macerata e anche a livello economico è meno costoso questo tipo di raccolta che si attua a Macerata perché girano meno camion però il servizio resta uguale, addirittura la frazione organica viene raccolta tutti i giorni quindi per i cittadini c'è un'agevolazione perché un conto è tenere l'organico tutta la settimana, un conto è tutti i giorni avere a disposizione il cassonetto per smaltire l'organico. Per intenderci c'è in pratica un cassonetto per l'organico e uno per vetri e metalli sempre a disposizione? Sì, con delle isole diciamo di prossimità, non sotto casa come adesso il porta a porta però con questo qui il servizio si applica tutti i giorni quindi la persona non è costretta tenere il rifiuto tutti i giorni dentro casa ma ha la possibilità di smaltirlo tutti i giorni mentre le altre tre frazioni dovrebbero rimanere con la solita modalità di conferimento. Quindi potrebbe essere una proposta? Una proposta che è stata fatta praticamente nel progetto dei multiservizi che è stato presentato a tutti i comuni perché il progetto è stato, l'ATA ha dato mandato al multiservizi di presentare questo progetto quindi attualmente è questo qui il tipo di raccolta che è stato proposto. Poi possono essere fatti delle varianti nei piccoli centri, nei piccoli comuni perché ogni comune ci può avere delle esigenze, non è detto che questa raccolta proposta sia l'unica. Benissimo, voi intanto continuate a lavorare e aspettate delle risposte? Sì, più che delle risposte la prima data utile per vedere che parta questo progetto è il 22 febario come diceva con l'assemblea dei soci che deve cambiare lo statuto. Però è il primo passo di un lungo percorso perché non è che con questo passo si raggiunge qualcosa. È la prima fase poi per arrivare alla Costituzione a fine anno, speriamo. Benissimo, allora in bocca al lupo a Emanuele Bonvini, lavoratore di Ancon Ambiente. Io saluto anche Roberto Ascani della cifra. Grazie. Bene, grazie. Buonasera a voi. Grazie di essere stati con noi e se vorrete buonasera Marche e torna domani. Arrivederci. Grazie.